Adesso voltiamo nettamente pagina, cominciamo a entrare quella della cultura con la Mazzei Week. Con il Mazzei Week noi vogliamo ristabilire anche quella che è la grande alleanza tra il popolo americano e l'Europa nel mondo. E' questo uno dei grandi obiettivi che si pone il circolo culturale Filippo Mazzei in occasione della settimana celebrativa del medico, filosofo e saggista italiano morto nella città della Torre Pendente nel 1816. L'associazione a lui dedicata ha presentato il calendario delle iniziative che si articoleranno dal 13 al 20 marzo tra Pisa, Carrara, Prato, Palaia e Laiatico. Il settimo anno, nonostante la pandemia, l'anno scorso solo in una settimana e due eventi, dopo annate in cui gli eventi invece erano tutti i giorni per una settimana, quest'anno ripartiamo dal Teatro del Silenzio di Laiatico e chiudiamo sulla tomba di Mazzei la domenica 20, dove faremo un grande evento commemorativo. E dall'interno di questo Carrara, Palaia, Pisa, la tomba di Mazzei con Dario Fabri, un grande evento il 19 mattina, proprio il giorno della morte di Mazzei. La Mazzei Week è anche un'occasione per valorizzare le cinque città legate a Filippo Mazzei. Il turismo è una convenzione internazionale di pace e di scambio tra i popoli. Ecco perché è importante anche all'interno di queste iniziative calarlo nella nostra realtà, affinché quelli che sono i valori che caratterizzano anche la nostra società civile e la nostra società pisana, possono essere conosciuti anche dal largo pubblico. Perché Pisa, anche in questa circostanza, con la presenza di Mazzei, che è morto anche lui a Pisa, con la presenza di Mazzini, può dare veramente al mondo un segnale di pace, di libertà e di uguaglianza.